Ma signora Cristina, non ho mai commesso dei diritti così enormi. Non mentire. Tu e i tuoi uomini avete mandato a me e la sua famiglia in un'isola deserta. Allora, invece di farne. Ma non è vero, signora Cristina? Ma niente isola deserta e niente... Ma dopo io gli ho detto anche voi, io gli ho detto... No, mi è sicuro, signora Cristina, niente isola deserta e niente morte di fatti. Mi è sicuro che sono mezzo. Ma poi viene saltato i miei soli a mandarlo via. Lui ha avuto più voti contro che a favore. E così l'ha mandato via. E così che funziona la democrazia. Che democrazia! I rei non si mandano via mai! Senti, tu sei il sindaco. Ascolta il mio testamento. La casa non è mia e i uomini nemmeno. I miei spazi vanno fuori. I miei libri tieni di tutti nei disordini. Devi fare un attenzione di controllo e per studiare per i liberi. Sì, signora. Voglio un funerale senza musica, perché la morta la consegna. E voglio un funerale senza carno, perché i medici civili. E sulla cassa vanno la bandiera. La mia bandiera, quella là, la carta di muro. La mia bandiera con lo schermo a te. Ma sì, signora, sì. Io ti benedetta figliolo, anche se sei coscierto. Addio. Ciao! Ciao! Ciao!